I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro di prevenzione di beni per un valore di oltre 1 milione e 170 mila euro emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della procura distrettuale. I destinatari della misura ablativa sono Francesco Iannasso e il figlio Emanuele, appartenenti all'omonima famiglia di Indrangheta, operante nel territorio di La Messia e comuni limitrofi. I citati soggetti esponenti della cosca di Indrangheta confederata Iannasso Canizzaro da Ponte di La Messia Terme erano stati coinvolti nella nota operazione di polizia denominata Andromeda, culminata nel mese di maggio del 2015 con l'esecuzione di numerosi arresti. All'esito del procedimento penale di primo e secondo grado, i destinatari dell'odierno provvedimento di sequestro erano stati condannati a pesanti pene detentive perché ritenuti colpevoli, in particolare di associazione mafiosa. La famiglia Iannasso, tra quelle del territorio lamettino caratterizzate da un'idea tradizionale di cosca mafiosa, oltre che dedita ai reati ricompresi negli ambiti tradizionali di interesse criminali, ha da sempre costituito un esempio tipico di mafia imprenditoriale, capace di avvalersi di un fittissimo reticolo di imprese intestate o comunque facenti capo ad esponenti della famiglia. Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del GICO, del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria e della Guardia di Finanza di Catanzaro, prodomiche all'emanazione del provvedimento di sequestro, hanno consentito di ricostruire in capo ai propositi ingenti patrimoni, cui valori risultati proporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli stessi e dai loro familiari. L'intero patrimonio sottoposto a sequestro è costituito da 4 fabbricati, 6 terreni, tutti ubicati in la mesia terme, un'autovettura e diversi rapporti bancari o finanziari, il tutto per un valore complessivo di oltre 1 milione e 170 mila euro.